Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale che siete nuovi Lascia la hashtag Monopoly Go qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Allora, ieri non ho giocato quindi non ho screen da farvi vedere In pratica dopo il video che ho fatto non ho proprio giocato perché non aveva senso Però mi avete avvertito nei commenti, che me ne sono accorto in pratica poco fa Che hanno effettivamente ridotto i costi di nuovo delle costruzioni Quindi con tutti i soldi che avevo ieri potevo effettivamente crescere di tabellone Non l'ho fatto quindi oggi andiamo a fare la nostra giocata molto tranquilla Puntando sul per cento o per mille su stazione perché non abbiamo evento Cerchiamo di fare altri picconcini e poi vediamo cosa riusciamo a combinare Intanto abbiamo la lista degli eventi del giorno, del 24 cioè oggi appunto Alle 14 cash grab quindi afferra la grana Free parking cash quindi soldi alle ore 8 Alle ore 17 abbiamo rent frenzy Poi abbiamo all'ore 8 climbabili fino alle 23 quindi per ben 3 ore oltre il per mille dieci minuti Board rush che sarebbe quello lì appunto del tabellone lo stesso Che salendo di tabellone facciamo dei dadini Poi gira la ruota alle 23 quindi alle 11 Prendibile fino alle 5 del mattino E mega rapina alle 5 del mattino Che l'è immabile fino alle 5 quindi proprio secco è impossibile Cioè che te lo puoi tenere soltanto in quell'ora Va bene allora andiamo avanti Entriamo in gioco immediatamente a monto e non perdiamo tempo Oggi sicuramente sarà una puntata abbastanza gorta perché non ci sono eventi importanti Andiamoci a prendere comunque i bonus di chicche quotidiane Vai così Ok Proseguiamo Allora lì c'è il torneo che è sempre ad un giorno Ok Siamo a 58.000 dati quindi il droppino c'è stato Siamo arrivati terzi alla fine perché non avendo giocato Un minimo di drop c'è stato 600 dati E bustinina Ok Doppioni perché te pare che mariano le carte buone Allora andiamo a vedere che ci abbiamo Cronologia va bene Le attacchi di Laura Vinci dei veloci Guadagna 954 millions Va bene Allora distruggi una volta E poi l'altro si deve vedere Perfetto Allora Andiamo belli a dritto Cosa abbiamo da andare a vedere La cassa community Immediatly Ok Mi piace Dove voglio andare a vedere sta benedetta riduzione dei costi Voglio vedere Se effettivamente è stato così Almeno saliamo un tabelloncino 2 Sarebbe pure ora Sarebbe molto buono Sperando di capitare su stazione E non sprecare troppi dati E te pare che subito su chiave C'è chiave a terza botta Mi pare un po' eccessivo Grazie comunque a quelli che partecipano alla cassa community Vai così Negozio Andiamoci a prendere la nostra robina Giornalieva Che piace Ragazzi Che mi raccontate Mi dite qualche cosa di carino Qualche novità Qualche cosa simpatica Qualche altro gioco nuovo A cui stare giocando Ho visto che Palward Non vi interessa Forse perché Per la maggior parte È giocatore mobile E quindi Non è nel vostro gusto Non saprei Allora Non mi dice Che ci sono Dei premi particolari Sembra un torno normale A un giorno Potremmo pure iniziare E vedere come va Allora Intanto vediamo Dove stiamo piazzati 3, 6, 7, 8 Diciamo che è possibile Ovviamente riesco a fare i tiri più brutti della vita Però va bene Allora come abbiamo detto Ci concentreremo appunto Esclusivamente su stazione Perché evento non c'è Quindi Diciamo che oggi È comunque una giornata E potrebbe andare molto a perdere Al massimo Invece di tirare a per 1000 Tiriamo a per 200 E ci regoliamo Che proprio è Oppure cerchiamo di andare su Bryson A fare raddoppio Potrebbe essere un'altra idea interessante 5, 6, 7 Evitato di uno Ok Guardare Già iniziamo male Che non vuole andare dove diciamo noi Eh Ah dovevo andare a vedere le costruzioni Sì hanno ridotto i costi Anche di tanto Quindi Alla fine di questo episodio Probabilmente Utilizzerò tutti i soldi guadagnati Per fare almeno un livello appino E dai Di uno di nuovo Eh Cominciamo con questo scherzetto Del gioco Che cerca di farci Perdere tempo Ok Andiamo a dritto Posizione buona per station Anche perché ripeto Dovrebbe uscire fuori Per 1000 del torneo Sì passiamo su stazione Non le evitiamo tutti di uno No dai Non me fa Ok Che pazzia raga Stiamo già evitando il mondo Cioè È una cosa Impossibile 3, 6 Me la posso pure rischia Ma tanto il 6 è raro Io riesco a fa 5 Ok raga Sempre di uno Uffa Sto gioco Non so se lo fa apposta Ormai Però non mi riesce più A far passare su una stazione 5, 6, 7 Qua Dai non può essere Lo evitate tutte Tutte di uno Tutte Ma dici fosse l'eccezione Tutte Guarda Emo prendo l'unica No ok Per fortuna Se no lo rosicavo male Poi non ci stanno Eventi che dite Oh deve evitare Di passare da qualche parte Allora ve lo fa apposta No evita Sta evitando a prescindere C'è qualcosa di orrendo Da vedere Ok Proseguiamo Vediamo un po' se riusciamo A posizionarci In maniera discreta Da qualche parte Comunque si Tutti i soldini di ieri Sono andati persi Che peccato Che peccato Vabbè Succede anche questo Allora Dario Fishing Ti saluto Questa è una delle persone Che Tra cui aveva l'immagine Del ristorante Vai così Un attacco sprecato Però abbiamo fatto Una distruzione Quindi Ci ha dato Vincite veloci Altri martellini Che metteremo da parte A pizzo Questi diventeranno Dati In pratica Adesso c'ho 31 martellini Che diventeranno 90 dadi Che tristezza Un po' pochini Però Ok facciamo bastà Proviamo il 6 Ho fatto 8 Perfetto Non sto prendendo Una stazione Da inizio partita Dai ma perché Dai mi trollano Regà Mi stanno a trollare Uffa Abbiamo comunque Vincite veloci Con costruzione Quindi se facciamo Costruzione Si dà il punticino Ok Andiamo a rifare Tutto il giro Ok Un bel percentone Facci sognare No A ferra la grana Non era farci sognare Come pensavo Però Niente Rendete conto Di quantità Ti stiamo perdendo Nonostante Non Oh Pazzi Vabbè dai Almeno so Dollarini Oggi può essere Che so utili Potrebbe Allora Da qua potremmo Andare su Prison Ma non ci interessa Interessa La stazione Benedetta Se ce la facciamo A pianne una Magari No vabbè Sono un pochino No dai No 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 Questa si chiama Cattiveria Dalle mie parti Sto diventando Molto cattivo Eppure piccola rapina Oggi è la giocata No La classica giocata Che non è da fare Ovviamente Io le faccio lo stesso Perché Sapete che Per il canale Bisogna portare Dei content Quindi Giocherò ugualmente Con voi Picconazzi E dati Secondo me Non è che non hanno messo Il per mille Su sto torneo Città che stanno Quei tornei Senza per mille Sono rari Eh però Avevano fatto Un paio di prove Senza Mi ricordo 4 e 1 Un'altra Afferra la grana Non ci credo Regà Dai non ci credo Sì oggi Sono veramente Boh Non so cosa dire Ok Vai così Un miliardino Che diventa 100 Quindi già Se hanno abbassato Il livello Già dovrebbe farmi salire Di un tabellun Se meno Prendi una stazione Benedetta Con il Niente Abbiamo sprecato In pratica Fino ad adesso Mille dati E non abbiamo preso Una stazione A 100 È da non credere È da non credere Oh io la tiro da qua No Non lo prenderò mai La stazione Però Dai Ma mi sta trollando Alla grande Oggi il gioco Già non ci sta niente Da far Poi non mi fa passare Manco su stazione No 5 e 5 Imprevisto almeno Dai Oh che diamine Almeno Recupero qualche dadino Vabbè Che vanno persi subito Perché ovviamente Faccio 2 2 E 2 6 Cose improponibili Di questo gioco E neanche mi mette in posizione Ormai C'è proprio Stai arreso No Un'altra afferra la grana No regà Ma quanti afferra la grana Vuole dammi oggi Ho capito che posso Usare i sordi Però Mi sembra un po' Esagerato Oh Oh Madonna Me ne stava a perdere qualcuno Vabbè La posizione è buona Per stazione Se ci andassi Ogni tanto Dai No 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 E no 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 Non è possibile No Sto rimanendo malissimo Sto rimanendo malissimo Sono 10 minuti Che giochiamo E neanche una stazione Al 100 ho preso Ma dai No vabbè Ma non crede Sto rimanendo male 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 Oggi il gioco mi ha detto Mordug Non dovevi giocare Non era la tua giornata Lascia perde Che è meglio Io non posso Lascia perde E quindi vado A cala Maledetto Gioco Vai Per cento Prendi la nostra Cosa sono tutti sti diri bassi Vabbè Ma lo vedo solo io Regà Ho fatto un altro Doppio 2 Un doppio 1 Poi un doppio 6 Tutti doppi Però tutti sbagliati Va Oh Allelu Una stazione A 100 Dopo 10 minuti di gioco E magari è pure 3 anelli 3 Ok Se ho pure fosse 3 monete L'ho già sbrocca male E mo ci arriva Il per millone E se c'è il per mille Con sta situazione qua Che non va Siamo rovinati eh 135 Eccolo qua Il per mille Mmm Sento già il dolore Nelle ossa Lo so che c'è Moltiplicatore Inutile che me lo scrivi Conosco il gioco Allora Vediamo un po' Se il rischio vale La candela Anche se non ne vale mai Un altro A perra La grana Ma stiamo scherzando Ma io non Sto a sbarerla male Regà Ok No Stavo a perdere Una banconota Random Ok Allora Questa posizione sarebbe buona Per prigione Se è buona Speriamo Stazione con 3 Ho fatto Regà Stazione con 3 Io puntavo Alla Bryson E' da non credere Va contro tutte le possibilità Andiamo ad attacca 4000 Sono buoni Ma non è Quello che volevamo Volevamo sicuramente Di più Però intanto abbiamo preso La stazione Qua tutto bello devastato Come sempre Ormai qua ci attacchiamo In 20 persone Come minimo Ok Diciannovesimo Intanto Mi prendo un po' Le premi E vediamo un po' Se qualcosa di buono Esce fuori Da sto torneo 1000 Quindi abbiamo recuperato I 1000 utilizzati 45 martellini E tante belle bustine Le bustine Sono importanti Regà Sono importanti Sia doppioni Sia speriamo Speriamo qualche carta Che mi manca Ma non mi sembra Assolutamente no Ci doppiano per voi Questi sono Allora Ripartiamo Troviamo la posizione E speriamo Che sto per 1000 Ci venga in aiuto Allora Questa è un 6 Non me la voglio Rischiare col 6 La rischiamo solo Col 7 Perché ho l'8 Al massimo 6 A me non è mai Piaciuto Infatti Lo lisciamo Quasi sempre Quando c'è Allora Adesso c'è L'antiro corto Mannaggia la miseria E' venuto il 9 Vabbè L'abbiamo levato Una distruzione Speriamo in una bella rapina Per 1000 Sarebbe una bella cosina Perché sennò Oggi è un'altra giornata Drops Anche perché L'evento dei martellini Dura ancora due giorni E sette ore Quindi è inutile Andarla a completare Adesso Vai Posizioniamoci Abbiamo due minuti Per posizionarci Ok No No Non me lo di in altra Uh Quasi Sto facendo Dei tiri Che sono Improponibili E dei posizionamenti Totalmente sbagliati 3 6 7 Diciamo Potrei azzardare Perché c'è l'imprevisto E lo so E' un po' rischioso No Ho fatto 8 No Regà Vabbè Però Vai Altro Io sto rimanendo Malissimo Oggi Ma proprio Male Male Cioè Ci sono Delle Probabilità Che non Stanno Mai Uscendo Guarda Mora Su prigione Dimmi che non è un doppio 6 Perché sono oggi sbrocco Perché il doppio Il mille Lo volevo tirare proprio là Vabbè Doppio 1 Diciamo Sarebbe andata bene lo stesso Perché non avremmo perso dati Qui sarebbe stare un bel 3000 E non avrebbe fatto schifo Ok Posizione buona per stazione Se la prendiamo Magari Cioè ma ho visto male io O era un doppio 6 questo Porca miseria Niente oggi è puntata una drop Regà Come quella di ieri alla fine Perché è andata bene eh Però ieri abbiamo fatto il droppino tattico Cioè oggi magari droppiamo un po' meno Però È veramente dura eh 6 e 4 Imprevisto almeno Dai Vaffanbeccolo Cioè io non ci credo Regà Io non ci credo È da pazzi Ma per fortuna che c'hai dati Appresso Come faccio sempre Che me li metto a pizzo Se noi eravamo rovinati Allora 3 6 7 8 No Andiamo avanti dai 8 9 Qualcuno mi ha regalato una carta Proprio adesso Grazie Giovanni Molto gentile Allora Riposizioniamoci in tempo Giovanni però Non una alla volta Grazie No Mi ha fatto scadere Giovanni Grazie Sei stato gentilissimo Vai Un per mille L'ho tirato però Giusto in tempo Mamma mia Che Che cuore Una rapina per mille Ho tirato Giusto prima che se ne andasse Ok Ok Dammi tre anelli Un minimo di soddisfazione Giovanni mi sta per far lisciare il per mille Comunque Pazzia Dodicesimo Dodicesimo Dai prendiamo un po' di scatoline Dacci qualche altra cosa Mo' i dadi ce ne da pochissimi 650 Immaginavo E 70 martellini Ok Bustina Carta nuova Oh dorata Alleluia Un bel tuffo Oh Divertimento societario Dai Qualche dato mi ritorna 600 Bah Tristezza Però va bene Almeno abbiamo finito un'altra collection E Giovanni mi manda un'altra carta singola Due carte Ok Salta due Va bene Allora Adesso io ho 5 miliardi Vediamo un po' con la riduzione di costo Dove andiamo a finire Allora L'hanno abbassare di tantissimo Il costo vedo Quindi mi sa che A 23 mila ci arriviamo Forse Quasi puliti Quasi Non ne sono certo al 100% Ok Un tabellone fatto Va benissimo Ci piace Ci piace Quindi un tabellone up Andiamo a Milano Ok Quindi oggi facciamo pure un po' di bustine Ecco se c'era il will Era la cosa più giusta Non mi va di dirti se mi piace o no adesso Grazie Allora intanto mi prendo pure questo Migliora tre edifici Per una volta migliorare tre edifici Si può Ok Vai così Non mi ricordo a 23 mila Se c'era qualche bonus Buono Non mi ricordo proprio Ok I costi stanno già riaumentando Da 5 billion Siamo passati già A 3 billion E 9 Diciamo che forse posso fare 3-4 tabelloni Forse 3 Quarto Già comincia a costa troppo Allora Secondo tabellone portato up Oggi è la giornata dei tabelloni Ogni tanto Miracolo Ogni tanto abbassano e si ricordano che Che siamo umani Tantissime casette E ora ce le giriamo tutte a per uno per prenderle Così siamo contenti Partiamo qualcuna Se si aprirà automaticamente Ok Proviamo Secondo me si Gliela facciamo ancora Voglia E non costano 300 mila L'uno Costano 30 mila 20 mila E già Però guarda Se comincio a sentire il peso Siamo rimasti con 2 billions Mi sa che il prossimo Non lo facciamo Mi sa che il prossimo Con solo i 2 billions Non lo facciamo Ci proviamo eh 666 Uh Andiamo bene Ok Questo è dati Comunque Non sono arrivato all'app Quello 4 Che dà pure la bustina eh Oh Manca poco a 23 mila E non riesco a farlo Me sa Ecco Le casette mi fanno fare Qualche punticino in più Stiamo mozzicando i 23 mila eh Ai 23 mila Ci vorrei arrivare Anche se non completo il tabellone Lo devo fare Ecco un paio di gira alla ruota Era da una vita che non vedevo Di gira alla ruota Effettivi C'è pazzesco Bustina Ok Doppioni Ovviamente perché è piccola Come bustina Vai Altro Erano 3 gira Va bene Bustina anche qua Dammi la bustina cicciotta Così siamo più contenti no? No? Allora Costruisci Andiamo a vedere Se riusciamo a farne un altro Le tabellone A parte che Ma arriviamo a 23 mila Quindi devo andare piano Che se no se bug Lo sapete come fa No? Quando fate Troppi punti velocemente Especialmente Se arriviamo a 23 mila Allora vai 23 mila Ok Ce l'ho fatta Ancora miliardo e 6 23 mila Aggiornamento patrimonio netto Probabilità aumentata Tutti i possibili pagamenti Dei probabilità 245 milion Ok Non ci sono dati A 23 mila Non mi ricordo A quanto stanno i dati Che dovrebbe Stare Una cosa appunto Di dati Più avanti Allora Sto tabellone Riesco a completarlo Forse Giusto appelo Ok Però vuol dire Che nei prossimi giorni Con i punti Quelli buoni Dovrei Ovviamente Salire di Altri tabelloni Quindi Gigi Se l'avemo fatta Salire di un po' Di tabellons Miracolo divino E noi ce ne andiamo a prendere Tutti in giro Alla ruota del caso Ed abbiamo fatto Tre tabelloni Finalmente Dei tabelloni Per noi 23 mila Ok E abbiamo Tantissimi Gira la ruota Io in realtà Potrei pure Fa così Però il problema È che L'evento Non so se finisce oggi Devo controllare Mi sa di no Quello sopra Perché è quello Quello che mi interessa Che se ne vada Quello lì Arriva quello nuovo Ok Diciamo che per il resto Abbiamo solo consumato Un sacco di dati Come sempre Tra 5 ore Stelle scissiche Se ne va E mi rimane Solo questo E poi il torneo Nuovo che arriva Questo sta a 27 su 30 Quindi se è completato Tutti i bonus Sarebbe pure buono Però questi stanno a 38 mila Impossibile X Sto a 38 mila Quindi Sarebbe il caso Di aspettare Lasciar perdere Questo torneo E mettermi in coppia Torneo E evento Quindi recuperare Qualche dato Tanto me prendo i dati Da Alex Ringraziamo Alex Ok E a questo punto Potremmo anche O fare un giro casetto Oppure Me lo aspetto stasera Mi aspetto il giro wheel Raddoppiato negli eventi E mi prendo un po' più giri Forse è il caso Allora Come avevo detto Oggi sarebbe stata una puntata Molto scialla Molto breve Perché ovviamente Non c'è nulla di eccezional Ovviamente Ringraziamo finalmente Che se sono ricordati Da Bassaccio E un paio costi Almeno riusciamo a salire Stasera sicuramente Salirò di altri tabelloni E domani Vedrete tutti i risultati Qua mi dice Il pallino sul mio showroom Ma l'abbiamo già visti tutti Quindi non capisco perché È solo perché Ci stanno i nuovi Le nuove emoji Ok Il prossimo tabellino Su 150 dadini E la scatolina Niente di eccezionale Allora Abbiamo 161 martellini 161 martellini Per 3 Quindi sarebbero 400 dadi a pizzo Niente di eccezionale Ma sono dadi L'album sta in questa situazione 184 su 189 Quindi stiamo lì lì Ovviamente Vi ricordo Come avere le carte regalo da me Dovete essere i miei amici Il link in descrizione Per diventare miei amici Ci cliccate Vi apre il gioco E vi diventate amici automaticamente Poi Assolutamente Dovete fare Un commento Ovviamente Dovete essere iscritti al canale Perché io do precedenza Alla nostra community Allora Dovete fare un commento Con scritte Le carte che vi mancano Quindi Mi manca la carta Del set 9 Primo tentativo Mi manca la carta Del set 10 Candidati E fuori moda Così Immagine profilo Dettagliata Se ce l'avete Scrivetemelo Il vostro nome in gioco Scrivetelo sempre Perché se non lo scrivete Non vi do la carta Perché non vi ritrovo E quindi non mi metto A perdere tempo Se avete Chancing Sono sempre qui Se vi serve Se ce l'avete Se avete uno scambio Da poter fare Magari vedo un'altra carta 5 stelle Se ce l'ho E Mi raccomando Ovviamente Se c'è il bug Delle amicizie Cercherò di dirvelo In quel caso Mi togliete E mi rimettete Ok Così in quella maniera Riuscite a levare Il bug Vado a vedere Che cosa regalare oggi E se ho delle carte Da regalare La prima carta di oggi Va a Pascal Una carta 5 stelle Vai Prenditela Tutta tua Primi successi La seconda carta di oggi Va a Lorenzo Che mi chiede una carta Un po' più bassina Ma fa sempre comodo Quindi vai così Società acqua potabile Viaggio ha risolto Il problema Delle amicizie Quindi lo riesco Finalmente a vedergli Mando una delle carte Che gli serve Dalla lista Chiacchierata serale Ultima carta per oggi Perché per adesso Non ho altre carte Che posso mandare a nessuno Quindi sono 4 Quelle che regalo per ora Fabrizione Se prende Questa bellissima carta Il sogno E siamo arrivati Alla fine di questa puntata Diciamo Non è infruttuosa Perché anche se abbiamo perso 4000 dati buoni Forse pure 5000 Perché è una giocata Vuota sinceramente Però abbiamo fatto Un po' di dollari E siamo saliti Finalmente di livello Siamo arrivati A 23.019 Alleluia Per fortuna Non abbassare i prezzi Ovviamente domani Avrete Tanti aggiornamenti Su stelle scistiche E sul torneo nuovo Quindi sicuramente Stasera Giocherò a palla Mi farò il giro A per uno Di tutte queste casette Con il will Quindi si spera Di trovare Tanti doppioni Da dare a voi Anche E di trovare Qualche carta Per completare Io E non sarebbe mica male E niente Arriviamo Mille like Condividetevi Iscrivetevi al canale S9 Da c'è la hashtag ManopoliGocco Sotto i momenti Per ricevere un cuoricino E mi raccomando I mi piace Sono sempre gratuiti E a 100 Ci possiamo arrivare Grazie a tutti Grazie a tutti